E' stato un bellissimo risveglio, devo dire ho dormito pochissimo stanotte, quindi è stata una grande festa con una grandissima partecipazione popolare, tantissime famiglie, tanti bambini, è un momento di grande gioia collettiva che c'è stato a Napoli, ma devo dire in tante città italiane e del mondo. Questa è una caratteristica di Napoli, Napoli è una città mondiale, una città accogliente, una città che condivide tutto quello che ha, anche quando ha avuto poco l'ha sempre condiviso con gli altri e questo non ci fa che piacere perché è la natura intima della città. Il messaggio che arriva è la grande forza di essere parte di una grande comunità. La grande isola pedonale ha funzionato e questo ha garantito che diciamo tanta gente a piedi, centinaia di migliaia di persone a piedi, il sistema dei trasporti aveva retto, non avevamo portato alcuni correttivi rispetto a domenica scorsa che hanno tenuto. Stamattina ci godiamo un poco, dopo tanto lavoro, un momento di pausa, però già si sta lavorando per domenica perché ieri è stata una festa un po' particolare, uno stadio pieno senza la partita e anche senza la squadra. Quindi penso che solo a Napoli si poteva fare una cosa del genere. Quindi domenica invece sarà la festa della città con la squadra, con i giocatori, con il mister Spalletti, ma anche con tutti i grandi staff. Io voglio ricordare anche loro, dai massaggiatori allo staff medico, ci sono tanti napoletani che lavorano intorno al Napoli e quindi sarà il momento per ringraziare tutti per questo straordinario lavoro che hanno fatto e per dare loro l'abbraccio della città.